Mi dia un secondo, mi scusi Sì, arrivo, arrivo Due minuti, ok? Oh, buon pomeriggio, mi scusi per l'attesa Piacere mio Piacere mio, altrettanto Ha già fatto colloqui attraverso una webcam in passato Lasci che le spieghi un po' di più su questo lavoro che andrà a fare Non è proprio un lavoro È probabilmente il lavoro più importante che ci sia Il titolo che usiamo per definirlo è Direttore delle operazioni Ma è davvero molto più di questo Le responsabilità e le abilità richieste sono veramente molto estese La prima categoria di requisiti sarà mobilità Questo lavoro richiede che lei sia in grado di lavorare in piedi per gran parte o la totalità del tempo Costantemente in piedi, costantemente chinato, costantemente in movimento e con una grande resistenza Ah, eh, ok È molto Per quante ore? 135 ore a settimana fino a un numero illimitato di ore Praticamente 24 ore su 24, 7 giorni su 7 È sicuro che non ci sarà la possibilità magari di sedersi un po'? Intende una pausa? Sì Ah, no, non ci sono pause disponibili È legale tutto questo? Oh, sì, certo Ah, ok Così niente pranzo Può pranzare, ma l'unico modo è solo dopo che i soci abbiano già pranzato Ah, penso sia un po' pesante No, non è possibile Per questa posizione sono richieste ottime capacità di negoziazione e di relazione interpersonale Cerchiamo qualcuno che possa avere una laurea in medicina, in finanza e in arti culinarie Dovrà essere in grado di coprire numerosi ruoli I soci hanno bisogno di attenzioni costanti A volte dovrà rimanere con il socio per tutta la notte Dovrà lavorare in un ambiente caotico In più, nel caso lei avesse una vita, le chiediamo di sbarazzarsene Non sono previste ferie Anzi, durante il giorno del ringraziamento, Natale e Capodanno Il carico di lavoro solitamente aumenta E sempre un'attitudine positiva È quasi crudele Sembra uno scherzo di pessimo gusto Vorrei capire se c'è tempo per dormire o... Non c'è tempo per dormire È omnicomprensivo, direi Esattamente Sì No, è inumano Questo è folle Il significato dei legami che questo crea La sensazione che si prova aiutando realmente i soci è incommensurabile Inoltre, riguardo al salario La posizione non prevede assolutamente alcuna retribuzione Prego? No Perché dovrei farlo gratis? Eh, non prevede nulla È completamente gratis Che effetto le farebbe se le dicessi che correntemente Ci sono persone che occupano questa posizione Miliardi di persone Le mamme Mamme Fantastico E hanno tutti i requisiti, no? Oh mio Dio Le mamme sono le migliori Eh sì, nessuna paga 24 ore, sempre là Sto pensando a mia madre Eh, e a cosa in particolare? A tutte le notti E a tutto il resto Grazie infinite per tutto quello che hai fatto Lo so, sembra che non apprezzi Ma è proprio così Così mamma Voglio dirti grazie Per tutto quello che hai fatto Siamo tantissimo Per essere sempre stata Fantastica Mia mamma Fantastica Siamo tantissima Grazie a tutti.